Ciao a tutti ragazzi, sono Saviultras90 e oggi sono tornato con questo nuovo tutorial su Black Ops 2 Allora, volevo dirvi prima di tutto che questo tutorial consiste nel trasportare su un altro account tutte le vostre statistiche, compresso il prestigio Quindi per esempio se avete un account tipo al settimo prestigio potete trasportarvi tutti i prestigio e le statistiche su un altro a livello 1 Allora, poi volevo dirvi anche che io questo tutorial per arrivare all'undicisimo prestigio non lo farò perché già sono al quinto E quindi sarà solamente a scopo informativo Allora, passiamo al tutorial Il primo passaggio è di collegare il secondo joystick Allora, io non lo farò perché non ce l'ho e quindi così, vabbè Dovete collegare il secondo joystick Poi dovete andare sul negozio E spingere subito cerchio E poi con il secondo joystick dovrete spingere due volte Due volte, diciamo, velocemente X Dovete spingere il tasto X Così vi ritornerà, diciamo, in questa schermata multigiocatore Appena potete Premette di nuovo il tasto X E vi usciranno, diciamo, i vostri account della PlayStation E voi dovrete decidere, diciamo, l'account che volete copiare sull'altro, diciamo Per esempio, se l'account è quello al decimo prestigio che vogliamo copiare Dobbiamo copiare quello, diciamo Non so se mi sono fatto capire, vabbè Comunque, dopo aver fatto questo Dovremo entrare online e ci ritroveremo al Prestigio Master Dopo aver fatto questo Dovremo andare su PlayStation Network Andare a gestire un account e fare esci Così ci scollegheremo dal PlayStation Network Dopo esserci scollegati Ci ritroveremo nuovamente a riconnettere E quindi saremo al Prestigio 11 definitivamente Comunque ragazzi Il tutorial è finito Se avete delle domande scrivetemi nei commenti E ricordatevi di iscrivervi al mio canale Bella